Benvenuti a tutti, mi chiamo Licia Di Pillo, ho una grande notizia da darvi, quello che andrete a vedere è il primo video in assoluto della mia vita. È stato molto stimolante confrontarmi con le immagini, solitamente lavoro con la registrazione del solo audio, dal vivo ho avuto molte collaborazioni con musicisti in vari reading concerto, io infatti sono molto attratta dal legame che unisce la parola alla musica, sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli per poter lavorare sull'espressività vocale, sia dal vivo che con registrazione e ritengo meravigliosa l'opportunità che mi è stata offerta oggi, un viaggio nel tempo, sì proprio un viaggio interiore dentro di me, pensate che Il Varone Rampante è stato il primo libro di Caldino che ho letto, avrò avuto 12 anni e ricordo che mi ero immedesimata all'istante con il protagonista, perché ho sempre avuto la testa tra le nuvole, mi sono sempre rifugiata in posti solitari, è bastato quel titolo per tuffarmi immediatamente nel passato, ancora oggi mi immedesimo facilmente in questo personaggio, cerco di cambiare continuamente le angolazioni da cui osservare il mondo e appena posso cerco rifugio in mezzo alla natura, come potete notare dal video, mi sono ricordata di un filmino muto di me piccola coi miei genitori, fatto dai miei zii che lo hanno in seguito trasferito su un DVD facendomi un dono immenso, oggi al tempo dei cellulari non ci si ricorda più di come fosse almeno 40 anni fa, ed ecco che le pagine di Caldino insieme al mio video si trasformano e rinascono a una nuova vita, permettendomi di accorciare per pochi istanti le distanze del tempo e di vivere un'emozione nuova che spero di riuscire a trasmettervi in tutta la sua intensità, i miei progetti futuri, riprendere teatro da dove è stato interrotto e chissà, mi piacerebbe tanto ricevere offerte di collaborazioni, leggere audiolibri di cui ho avuto una piccola esperienza come donatrice di voce, io sto con le antenne tese e poi nulla accade per caso a questo mondo.